om shanti il potere del ricordo cosa ricordate di solito il passato le brutte esperienze o quelle belle ma tutto il vissuto è ciò che vi ha portato ad essere quello che siete oggi vi ha formato e vi ha portato fin qua ricordate di essere un diamante che brilla al centro della fronte il luogo dove risiede l'anima nonostante il diamante sia ricoperto di tanta polvere è pur sempre un diamante buttereste via una banconota solo perché è sporca o accartocciata no perché ne riconoscete il valore allora riconoscete il valore di ognuno e di voi stessi nonostante le temporanee debolezze ricordate che le debolezze sono acquisite dietro di esse c'è la bellezza di un diamante prezioso chiamato anima ricordando ciò che è vero è facile ricordare il supremo colui che sa come pulire il diamante il suo sguardo non vede altro quando vi guarda e vi ricorda quanto preziosi siete fate altrettanto di svingare il tuo svingare il suo svingare il nostro svingare il nostro svingare è stato Grazie a tutti.